Gli atti degli apostoli ci descrivono così l'evento di Pentecoste. Ci sono anzitutto dei segni esterni. Prima di un segno percepibile all'udito. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. Poi abbiamo un secondo segno, un segno percepibile alla vista. Apparvero loro lingue come di fuoco. E infine la realtà che non si vede ma che lo scopo di tutto. Tutti furono colmati di Spirito Santo. Ma cosa vuol dire che furono colmati di Spirito Santo? E cosa provarono in quel momento gli apostoli? Gli apostoli in quel momento fecero un'esperienza travolgente dell'amore di Dio. Si sentirono inondati di amore, come da un oceano. E come lo sappiamo? Ce lo assicura San Paolo, quando appunto, nella Lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 5, l'Apostolo delle Genti dice che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ma qual è il segno che qualcosa di nuovo è successo nel mondo? Il segno sono appunto le lingue. Il racconto prosegue infatti dicendo e incominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ora la cosa strana è che questo parlare in lingue nuove e diverse, anziché generare confusione, come ci sarebbe stato d'aspettarsi, crea al contrario una mirabile intesa e unità. L'autore sacro scrive che abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che sotto il cielo, parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e ciascuno li udiva a parlare nella propria lingua delle grandi opere di Dio. Con ciò la scrittura ha voluto mettere in luce il contrasto tra Babele e Pentecoste. A Babele tutti parlano la stessa lingua e a un certo punto nessuno più capisce l'altro e dunque nasce la confusione delle lingue. A Pentecoste invece ognuno parla una lingua diversa e tutti si capiscono. Come mai? Per scoprirlo basta osservare di che cosa parlano i costruttori di Babele e di che cosa parlano gli apostoli a Pentecoste. I primi, i costruttori di Babele, dicono tra loro, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocca il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Questi uomini dunque sono animati da che cosa? Da volontà di potenza. Vogliono farsi un nome, ricercano la loro gloria. A Pentecoste invece gli apostoli proclamano che cosa? Le grandi opere di Dio. Gli apostoli non pensano a farsi un nome, ma a farlo a Dio. Per questo tutti li comprendono. Dunque Dio è tornato ad essere al centro. Ha la volontà di potenza. Possiamo dire che si è sostituita la volontà di servizio. Alla legge dell'egoismo si è sostituita la legge dell'amore. In ciò è contenuto un messaggio di vitale importanza per il mondo di oggi. Qual è questo messaggio? Oggi viviamo in un mondo dove c'è molta comunicazione, la cosiddetta comunicazione globale. Cioè si parla senza limiti, si comunica con tutti. Pensiamo al cellulare, a Whatsapp, a Facebook, a Instagram, a Twitter. Questi mezzi di comunicazione ci permettono di comunicare con gli altri in qualsiasi momento, in maniera ininterrotta, stando in viaggio, in volo, dappertutto. Dunque possiamo dire che la comunicazione è ininterrotta. Però dobbiamo stare attenti. Perché? Perché le notizie che apprendiamo dei social sono spesso notizie effimere o, come si dice oggi, fake news. Quindi ecco, delle false notizie. La comunicazione allora diventa una comunicazione senza comunione. Diventa un parlare tra sordi. Che cosa significa questo? Significa che noi parliamo molto sui social, però il nostro parlare è un parlare virtuale. Quindi parliamo, però non abbiamo la persona davanti. Oggi tutti vogliamo parlare e nessuno vuole ascoltare. Tutti vogliamo far vedere il nostro io. Ecco perché vi sono guerre. Ecco perché vi sono divisioni, contrasti tra i popoli, società lacerate e confuse. Perché tutto ciò? Perché abbiamo respinto Dio. E ricordiamoci che senza Dio noi non ci capiamo più. Senza Dio è aperta la strada all'odio. Senza Dio non c'è unità, non c'è fraternità. E allora riscopriamo il senso della Pentecoste. Riscoprire il senso della Pentecoste cristiana può salvare la nostra società moderna da che cosa? Dallo sprofondare sempre più in una babele delle lingue. Babele e Pentecoste sono due cantieri sempre aperti e in atto nella storia. Infatti, secondo Sant'Agostino, nel primo cantiere si costruisce Babilonia, la città di Satana. Nel secondo cantiere, invece, si edifica Gerusalemme, la città di Dio. Ogni nostra iniziativa civile o religiosa, privata o pubblica, è davanti ad una scelta. O essere babele o essere pentecoste. E babele, se in essa pensiamo a fare un nome a noi stessi, ad affermare noi stessi per la nostra vanagloria. E pentecoste, invece, se con essa affermiamo anche l'altro e soprattutto Dio. E babele, dovunque c'è egoismo e manipolazione dell'altro. Mentre pentecoste, dovunque c'è amore e rispetto. Così diceva Sant'Agostino. Ebbene, raccolta con Maria, come al suo nascere, la Chiesa quest'oggi prega, veni sante spiritus, vieni santo spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. E aiutaci, o santo spirito, ad essere sempre pentecoste. Amen.